Studenti in protesta da oggi sino a data da destinarsi contro la riforma del governo Renzi, la buona scuola. Vogliono trasformare le scuole in aziende, dicono gli studenti, e noi non ci stiamo. Scuole occupate allora all'Aquila e tante assemblee per fare proposte. Manuel Lancia è il rappresentante della consulta degli studenti. Questa mattina avete deciso di occupare il vostro istituto. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto poi a fare questa protesta molto partecipata perché vediamo insomma tantissimi studenti? Guarda questa è una protesta che non riguarda il nostro istituto, bensì siamo vestiti d'accordo con tutti gli istituti, sia del Polo di Colle Sapone sia del Codugno. Riguarda principalmente, siamo contributi alla buona scuola e noi ovviamente sappiamo che non possiamo più negare questa buona scuola ma vogliamo provare a proporre delle alternative, diciamo. Al termine delle occupazioni, i studenti degli istituti scolastici cittadini nei giorni prossimi invaderanno la città con un corteo studentesco pacifico e colorato.